Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Oggi ci trucchiamo insieme perché voglio parlarvi di alcuni prodotti che ho provato negli ultimi giorni e voglio provare insieme a voi una nuova per me palette di Essence. Allora, cominciamo col primo step. Io adopero sempre, ormai da un po', quindi questo non è un prodotto nuovo per me, è il primer di Catrice nel contorno occhi perché è idratante e quindi lo adopero lì. Visto che non ho bisogno di idratazione nel resto del viso, preferisco adoperarlo qui sotto nel contorno occhi. Nel resto del viso, come mio solito, è il primer di Revolution. Mentre aspettiamo insieme che si asciughino tutti i primer, ho provato una o due volte il Lip Oil di Essence al Ginseng, questo qui. Devo dire che ha una sensazione piacevolissima. Questo ha un effetto, nel claim dice, ha un effetto plumping. Devo dire che io non ho visto tutto questo plumping, però ha un bell'effetto sulle labbra e lo proviamo insieme, adesso lo vado a mettere. E ha un odore, un odore e un sapore gradevolissimi. È dolce, è molto dolce, ma non è fastidioso. Non pizzica, non pizzica assolutamente. Io questo effetto plumping, cioè proprio, diciamo, non ho notato una differenza sulle labbra, però leggermente distende un pochino le labbra. Lo lasciamo agire, nel frattempo andiamo a toccarci. Allora, voglio parlarvi di un correttore. Questo dopo, vado a pettinare le sovracciglia e andiamo a mettere il Fix Gel di Essence, il Fix It di Essence. Ho spostato tutto? Così, nel frattempo, faccio che deve. Ok, così nel frattempo, lasciamo asciugare anche questo. Il color corretto che vado a mettere è sempre quello di Kiko, ancora superstite. Perdonate le condizioni, ma numero 12. E voglio parlarvi, nel frattempo, di un correttore che mi è stato regalato da una mia amica ed è questo di Deborah. Non l'avevo utilizzato fino adesso, mi è stato regalato qualche mese fa. La colorazione è 03. 24 ore, perfect all over. È long lasting waterproof. È un correttore multiuso, sia per le occhiaie che per il viso. E minimizza le imperfezioni e le discromie. Quindi può essere utilizzato, ma, d'altronde tutti i correttori. Però quello che mi ha sorpreso è che si autosetta. Quindi rispetto a molti altri correttori che io utilizzo e che mi piacciono molto, va a segnare meno le linee e si autosetta. Quindi non ha bisogno, poi, delle cipre, anche se io un pochino la metto. Quindi mi ha sorpreso e lo provo con voi. Ve ne voglio parlare perché appena l'ho utilizzato e ho cominciato a capire come funziona il prodotto, sto utilizzando sempre solo questo adesso. Quindi ve ne voglio parlare. Questo è l'applicatore. È abbastanza... non è piccolissimo, è abbastanza grande, ma è comodo. Cioè, le mie occhiaie sono scomparse. Le vado a mettere un puntino qui. Cioè, la cosa che mi ha sorpreso è che copre. E io ho delle occhiaie importanti, quindi copre, però non è pesante, non è secco. Mi piace molto il risultato che va a dare. Quindi oggi come base viso non vado a mettere il fondotinta. E vado ad utilizzare direttamente questa cipria di Catrice. Che avevamo visto nell'ol precedente. Quindi HD Matte. È praticamente una cipria compatta. Qui dice Power Foundation con SPF 15. È durata a 18 ore. Io l'ho provata e ne sono rimasta... Cioè, l'avevo comprata per andare a sostituire... Pensavo che fosse questa... Con un pack rinnovato. Invece devo dire che... Per quanto mi riguarda è molto meglio. Molto meglio. Quindi oggi la vado a provare senza fondotinta. Proprio per farvi vedere l'effetto reale. Perché magari col fondotinta potrebbe venire fuori un altro effetto. E quindi falsare un po' l'effetto reale. Quindi la vado a provare senza. Con il puff. Cioè, l'effetto che ha è levigante. E sembra ecco setosa. Sembra lasciare la pelle setosa. La colorazione che ho utilizzato io ne ho acquistate tre. E la colorazione che sto utilizzando adesso è la 012W. Credo che sia leggermente chiara. Perché magari ancora un leggero colorito. Non so neanche se dire da bronzatura. Da sole. Da sole estivo. Ecco. Un leggero colorito solare. Questa secondo me colorazione andrà bene in inverno. E devo, voglio provare la 15N la prossima volta. Perché l'altra è 010W. Quindi è ancora più chiara credo. Però devo dire che l'effetto è... Non mi aspettavo questo effetto ecco. Quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo acquisto. E sono contenta di parlare di questo prodotto. Poi, devo dirvi che ho provato... Vediamo se la trovo... E questa? No. E questa. Ok. Ho provato la matita di Essence per gli occhi. Questa qui. E devo dire questo. Il colore è molto bello. Però tirarla fuori con cautela. Perché si rompe. E quando si va a tracciare la linea sull'occhio. Il tratto viene lasciato con difficoltà. E se si va a pressare un po' di più. La punta si rompe. Quindi bisogna tirarla fuori con cautela. E poi. Anche se fuori ce n'è poco. Cercare di continuare con quello. Poi magari questa la proviamo in un altro video. Se volete vedere la resa. Perché oggi volevo provare una palette. Che abbiamo trovato in un calendario dell'avvento di Essence. Nella box. Nella box calendario. E sto parlando di questa qui. Quindi la matita. Quella matita la proviamo in un altro momento. Adesso faccio contour. Blush. Allora. Ho fatto contour. Ho fatto le sopracciglia. Allora. I prodotti che ho utilizzato. Sono per il contour. Ho utilizzato la palette di Essence. Per riscaldare un po'. Quindi fare un po' di bronzing. Ho utilizzato questa di Catrice. E il blush che sto utilizzando. Da un periodo a questa parte. Perché mi piace di più la tonalità. Mi piace molto di più. Cioè me lo vedo meglio addosso. Ecco. E questo qui. Di Kiko. Della linea Smart. E la tonalità è. Il colore è 07. Lo suoccio. E questo. Quindi mi piace molto di più. Come mi sta. Poi per le sopracciglia. Per fissare quell'audience. Se l'abbiamo detto all'inizio. Poi ho utilizzato. La matita di Focalure. 04. E la colorazione sul tappo che è Rack 04. E adesso passiamo a una palette. Ma mi sembra che ci sia altro. Quindi la palette di Essence. Trovata nelle varie camiondali dell'avvento. Il primer occhi. Che vado ad utilizzare sempre di Essence. E' questo. Vado ad utilizzare questo primer. Questo mi piace perché si autosetta. E tonalizza le discromie che ho io sulla valpebra. Lo vado a stendere così. Quindi utilizzo. Ah il nome della palette è il bronze. Utilizzo questo colore. Non so perché lo vedete bianco. Ma non è bianco. E' un nocciola chiaro. Di transizione. E per sbaglio ho preso anche quello sopra. Un mix. Mi piace un mix. Aspettate un altro. Ma perché no. Sto provendo. Ma ho chiesto. Un po' di toni sul bordeaux. Ce li ha. Si avvicina molto al colore della mia valpebra. Comunque. Questo. Della mia valpebra senza primer. E poi andiamo a prendere. Si è scelto da solo. Un po' di questo. Bella. Scrivante. Scrive subito. Poi sempre con lo stesso vennello. Vado a prendere questo. Qui per la parte esterna. Devo dire che sono molto pigmentati. Sarà anche che sono i miei colori. Quindi mi risuonano un po'. Mi piacciono molto questi colori. Non è un po' di questo. E' veramente meravigliosa questa cilia. Per schiarire l'arcata sopraccigliare sto utilizzando lo cipice di Catrice. Mi piacciono molto, molto questi colori. Questa palette penso che la utilizzerò spesso. A parte le minchiate che faccio io, non fa fallout questa palette. Non fa completamente fallout. Quelle sono le minchiadine che faccio io. Perchè questo pennello non è adatto. Poi andiamo un po' a pulire casomai. Anzi no, vorrei anche fare questo visto che ci troviamo. Adesso andiamo a mettere questo sull'altebra. Bello, bello, bel colore. E per sfumare un po' il scuro delle sternocchi con lo shimmer, utilizzerei anche questo. Così si può dire che l'abbiamo curata quasi tutta. Questo colore è molto bello. E' scuro. Proprio scuro. Mi piace molto questo colore. E' comodo e compatto anche da portare in borsa. Si riesce a fare anche più di un look. Dico io ho voluto utilizzarli quasi tutti per provarli. Però se ne vuol fare più di uno secondo me ecco. Adesso andiamo un po' a correggere e a definire questo look. Allora... Dov'è? Allora... Scusate. il mascara che vado a mettere all round di Catrice e poi sopra ci vado a mettere la mappa di Catrice Max Hilt a mettere la mappa di Catrice e poi sopra ci vado a mettere la mappa di Catrice sembrano ciglia finte, andiamo a separare sopra e sotto che si sono attaccate ok 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 questo occhio è un po' problematico il rosetto che vado ad utilizzare è trovato nel calendario dell'avvento di Douglas ed è questo questo è il colore è cremoso e confortevole sulle labbra quindi mi piace mi piace anche il colore quindi le mie nozze di trazione su questo palette è che piccola compatta funzionale scrivente i colori si sfumano bene tra loro mi è piaciuta mi è piaciuta molto quindi promossa e fatemi sapere se avete acquistato o utilizzato qualcuno dei prodotti che io ho testato diciamo negli ultimi giorni fatemi sapere se vi sono piaciuti e se vi siete trovati bene per questo video è tutto e se vi è piaciuto lasciare un like se non siete ancora iscritti al mio canale noi ci vediamo in un prossimo video spero domenica spero domenica e vi auguro una buona giornata un bacio ciao